Una grandissima delusione, la voglia non di mandarvi a fare in culo che meritereste ma di mandarvi veramente a zappare la terra in qualche campo, ce ne sono tanti nell'agro romano, farvi raccogliere, se venite dalle parti di Latina anche ci sono tanti cucumeri, tanti meloni da raccogliere. La partita del primo tempo indegna, l'avete visto anche nel video che ho fatto alla fine del primo tempo, credo che sia andata ad rivederlo, l'avete inquadrato perfettamente come ero preoccupato, circa l'esito di questo Roma-Botoglimt finito 2-2 è un risultato inaccettabile, un risultato che non ha giustificazioni oggettivamente, tu non puoi dopo aver perso 6-1 con una squadra di boscaioli all'andata non fare una partita d'orgoglio, una partita di riscatto, di temperamento, di riconciliazione con una tifoteria che dopo un 6-1 si presenta allo stadio olimpico con 40.000 unità per supportare una squadra di somari, una squadra di buffoni che oggi è andata in campo a rubare lo stipendio, a prenderci per il culo in diretta televisiva con tanto di trasmissione in chiaro, tutti vuoto, l'avete vista proprio tutti questa volta questa Roma, ma se fosse stata criptata sarebbe stato meglio aver preferito non vederla questa partita, sentimela magari alla radio, perché da Roma-Botoglimt 2-2 di oggi, 4 novembre 2021, emerge un quadro diverso da quello che io avevo ipotizzato nelle ultime settimane, la situazione è molto grave, non è questa una squadra che si può sperare di rimettere in careggiata. Capisco ora tante cose che ha detto Mourinho, circa giocatori che non sono proponibili a questi livelli, oggi anche problemi di formazione, sì d'accordo, Vigna è infortunato, Pellegrini anche, e quindi abbiamo messo i bagni al setettino sinistro, ma anche Mourinho ci sta capendo poco, perché a questo punto era meglio mettere un terzino sinistro di ruolo, cioè Calafiori e tenersi i bagni al centro, perché i bagni al terzino sinistro è una forzatura, ma non è solo questo il punto, qui c'è un grosso problema di fondo, purtroppo noi abbiamo voluto stravolgere quella che è la logica del pallone, con tutti questi stranieri, i giocatori che vanno in campo non si rendono conto, non si rendono conto, c'è uno nella mia città che aveva questo modo di dire, hanno dato la fregna in mano ai ragazzini, diceva, noi abbiamo dato la fregna, la maglia della Roma, in questo caso, in mano a dei ragazzini che non sanno cosa farsene, che non si rendono conto, che credono, che stanno giocando, mentre invece la fregna è una cosa importante, perché dalla fregna che nascono i bambini e il mondo va avanti così, e la stessa cosa è la maglia della Roma, per noi è una cosa importante, quindi, questi ragazzi non si rendono conto del male che ci state facendo, non vi rendete conto che ci fate del male, che violentate questi colori, che mancate di rispetto a un popolo che vi segue, sono milioni i tifosi della Roma che ci sono messi davanti alla televisione a vedere questa prestazione vergognosa, la prestazione di 11 bidoni, che siete riusciti a prendere due gol da una squadra di scarpari, che hanno solo un po' di vigoria atletica, hanno solo un po' di velocità, hanno solo un po' di voglia in più di voi di giocare a pallone, pippe, siete delle grandissime pippe, e poi questa sera ha sbagliato anche Murigno, perché Murigno si deve togliere dalla testa questa storia di mettere 5-6 attaccanti tutti insieme, non dà l'arembaggio, non si vincono così le partite, l'abbiamo visto fare da Ancellotti, l'abbiamo visto fare da Benitez nel Napoli, l'abbiamo visto fare un sacco di volte, non è che più metti attaccanti e più segni, non è mai funzionato così il calcio, queste sono situazioni che tu puoi fare così, alla finale di Coppa del Mondo mancano due minuti alla fine, metti quattro centravanti perché a quel punto mai hai perso, ti giochi il tutto per tutto, ma tu non puoi presentarti con tutta sta gente all'attacco con una squadra che poi si sbilancia e inevitabilmente viene anche punita in contropiede, perché se tu mi intasi tutti gli spazi in attacco non si capisce più un cazzo quando noi andiamo a crossare, perché l'abbiamo visto tante volte, i nostri giocatori si ostacolavano gli uni con gli altri sulle palle alte, a parte il fatto che ci sono giocatori che oggi gli sbagliavano qualsiasi cosa, Veretù ha sbagliato tutto, cross, calci d'angolo, tiro in posta, qualsiasi cosa lui sbagliava, ma io dico c'hai un'area di rigore intasata di giocatori, poi arriviamo anche all'arbitro, c'hai un'area di rigore, vai a tirare un calcio d'angolo a tre, quattro minuti dalla fine, due minuti dalla fine e lo tiri sul primo palo, ma che cosa volevi fare tirando sul primo palo, io non riesco a capire, l'arbitro, l'arbitro è una testa di cazzo, questo è l'arbitro, una testa di cazzo, non ci ha dato due rigori camolosi, il primo è una cosa proprio comica, naturalmente noi giochiamo in conference league, la VAR non c'è, il VAR non c'è, quindi il signor Papa Petru Greco non dà in avvio di secondo tempo un rigore che vedeva anche Bocelli, con tutto rispetto per Bocelli, ma anche Stevie Wonder avrebbe visto questo rigore, ma io non vi capisco, ma c'è un arbitro, due guardaline, c'è ancora il quarto uomo, nessuno vede uno che con quel modo così scomposto, questo cross di Ebram dalla sinistra, con un braccio largo così, cioè non c'è nessun tipo di interpretazione possibile, diversa dal fatto che dovete recarvi da un oculista e provvedere io, quando leggo qui, me le ho mette gli occhiali per voi, dovevi mettere gli occhiali per arbitrare, non è possibile una cosa del genere, c'è neanche un altro netto rigore, forse c'è neanche un terzo, non c'è il VAR, ripeto, ma tanti rigori non ce li danno neanche col VAR perché non si riesce a capire il motivo, ma io non mi voglio, non mi voglio nascondere dietro un dito, nascondere sempre dietro questo pianisteo dei calci di rigore, perché è vero che il calcio di rigore dato al secondo minuto del secondo tempo ci avrebbe permesso di pareggiare, probabilmente presto tutto un'altra partita, ma non me ne frega un cazzo, perché questa è una squadra di bidoni, andava travolta, andava dominata, andava spazzata via, già nel primo tempo se ne andai su riposo di 2-3-0, sono una squadra di pippe, questo sono, la Roma sarà vergognosa oggi. Lui Patricio Cardop, Mancini Chissanti Bagner, con Veretù e Darboe, che secondo me è stato uno di milione, il primo tempo è stato tolto, si è messo Gonzalo Vidia, che in questa partita non c'entrava un cazzo, perché è un giocatore troppo tecnico, questa era una partita da battaglia, Zagnolo a destra, Mkhitaryan, che non sembrava Pippo Franco e non Mkhitaryan oggi, al posto di Lorenzo Pellegrini, con il Sciarrao ischierato a sinistra, poi rilevato Mkhitaryan da Perez, e poi Zagnolo che in avvio di ripresa dopo un po' è stato sostituito da Shomulodov, nel finale dentro anche Majoral e Zaleschi, con Murigno che poi cade anche un po' in contraddizione, perché prima dice Villar, Majoral non possono giocare nella Roma, e poi nel momento decisivo ti affidi a questi qua, che naturalmente vanno in campo coi coglioni girati, perché si può dire che sono andati in campo coi coglioni girati, non si sono certo sbattuti, ma è normale, che hai messi fuori dal progetto, gli hai detto che sono delle pippe, che poi devono essere loro a toglierti le castagne dal fuoco, e avrebbe stato meglio mettere per esempio Zaleschi, un ragazzo che ti vede che quando tocca la palla dei colpi ce l'ha, il migliore della Roma è stato il Sciarrao, ma al di là del bellissimo gol che è il solito tiro alla Sciarrao, il solito tiro a giro, che questo marchio di fabbrica ci ha costruito una carriera su questa giocata, è buon per lui, tra l'altro poi grandissima la parata ancora sul 2-1 del portiere russo della squadra novegete, su una bellissima girata di prima intenzione sempre del Faraone, sulla sinistra è volato il portiere del Bodo, ha fatto una grandissima parata. Il gol del 2-2, secondo me ce l'ha anche un po' concesso il portiere, perché Bagnac sostanzialmente tira addosso al portiere di testa su questo gol da sinistra, ma il portiere si è fatto un po' prendere dal panico, era arretrato troppo, e credo che sarebbe bastato rimanere sulla linea di porta per bloccare quella palla, si è fatto prendere dal panico e ha arretrato, e ha respinto da dentro la porta. Ma, ripeto, tanti errori nei passaggi in attacco, una grande confusione, una squadra lunga e lenta nell'impostare nel primo tempo, e invece maledettamente frenetica, stralunata nel cercare di inventarsi qualcosa nella ripresa, una grande confusione. Alla fine potevamo anche vincere perché a forza di buttare pallone in mezzo potevano uscire fuori anche in autogol, ma non è così che si vincono le partite, queste sono squadre scarsi che vanno fatte uscire, bloccate con una mediana di lotta e di governo, con una squadra però corta, non così lunga, dove si cerca con intelligenza di recuperare il pallone, e si riparte giocando sulla tecnica, sulle onde di una tecnica calcistica che è superiore alla loro, perché ce ne avevamo tanti di giocatori che tecnicamente sono molto superiori a questi giocatori, sono tanti, ma erano, hanno giocato spesso per conto loro, lo stesso Ebram oggi ha giocato una partita per cazzo suoi, cioè Ebram deve cominciare a capire un po' dove sta però, perché Mourinho lo fa giocare sempre, ma se continua sempre a non dirgli come si deve muovere non va bene, perché tu non puoi stare così in avanti a 10-15 metri di distanza dal tuo compagno più vicino, perché questa non è una squadra che macina gioco, questa è una squadra che gioca sull'episodio, non è una squadra che ti costruisce il gioco come faceva, non so, per esempio la Roma di Lidl, che aveva sempre lei la palla, gli faceva una testa così agli avversari, veniva il momento che questa squadra che è molto compatta, molto tecnica, questa palla che girava una parte all'altra, Bruno Conti crozza al centro, produsse per destra e segnava, questa era la logica della Roma, quella grande Roma. Questa è una squadra dove ognuno sta per conto suo, tutti lunghi, Cardoff, perché io non si capisce che cazzo del giocatore è, io Cardoff più me lo guardo, non si capisce che un difensore non è, un attaccante non è, corre, corre, fa solo un gran casino, io vedrò così. I Bagnaz fuori posizione, ma al di là di questo, io ripeto, oggi proprio rimpiango le partite che ho visto giocare dalla Roma quando gli stranieri erano un po' di meno e i giocatori che andavano in campo si identificavano in questa piazza, in questa città, in questa soprattutto, in questa storia. Io oggi avrei voluto per esempio vedere in campo un giocatore per intenderci come Giuseppe e Giannini, come Daniele De Rossi, giocatori che quando andavano in campo sapevano di rappresentare qualcosa di molto di più di una squadra di calcio. Questi sono dei ragazzi che vanno in campo perché vengono pagati per andare in campo, questa è la triste realtà. fanno il loro lavoro, Zaniolo ha giocato una partita di merda, se ne torna adesso nella sua bella casa, che se non sbaglio è una casa di Totti, che aveva Totti nella sua bella casa, magari in buona compagnia, sicuramente in buona compagnia, si fa una bella dormita. Buomattina si va ad allenare a Tregoria e tanto a fine metri lo stipendio arriva lo stesso. Questa è la triste realtà. Noi tifosi ci incazziamo, ci accaloriamo, ci avveleniamo. Io stasera mi sono messo già nuova prima davanti alla televisione, speravo di ascirsi a una grande partita, a una goleata contro un avversario assolutamente abbordabile. Bodo Klimt, ripeto, è una squadra di brocchi, lo dico. Giocano un calcio primitivo, cercano di sfruttare questi contropiedi, non sono neanche delle ripartenze, perché loro partono proprio palla al piede. Quando recuperano la palla si buttano nello spazio, ci sono due o tre che sono anche piuttosto ai tanti e veloci. Alla alla sinistra, per esempio, il Pellechino è una pippa che non finisce più, uno che sbaglia anche gli stop. Il Bacchiano è un po' meglio, ma quello che ha segnato il primo gol. Partono così, negli spazi, un gioco anni, forse neanche anni 80, forse anni 70. Quindi, beh, non battere una squadra del genere, prendere otto gol in 180 minuti, abbiamo preso otto gol. Credo che il Saul Bacchiano abbia dato tre gol in due partite alla Roma, anche Botham, forse. Sono delle cose avvilenti. Io sono molto demoralizzato per tante cose, sia dal punto di vista morale, che dal punto di vista tecnico, e dal punto di vista tattico. Murigno ci sta purtroppo mettendo anche lui del suo, perché questa è stata una partita che è stata preparata male, come è stata preparata malissima invece quella d'andata. Però, ragazzi, noi all'andata avevamo l'alibi di aver giocato con la Roma a Bigo, le riceve, questa è la squadra titolare, ragazzi. Il primo tempo di Roma a Bodoquemite è uno schifo. Lasciate perdere il gol negli ultimi minuti, ma è proprio uno schifo, non abbiamo mai tirato in porta. Una squadra lunghissima, giocavamo con i lanci lunghi dai centrali della difesa a Kardov, che era sempre libero sulla fascia destra, non lo marcava nessuno, aveva stoppato dieci palloni, non è riuscito a fare un cross, fatto bene. Un giocatore che anche questo non può insistere troppo su questa gemma. Noi siamo, noi non so come siamo miracolosamente al quarto posto. Io non so come cacco facciamo essere al quarto posto in campionato con una squadra del genere. Tantissime le cose negative, proprio poco da salvare, forse la prestazione di El Charaui, ma poco da salvare. C'è anche il secondo gol loro, questo cross da destra, una cosa da oratorio, proprio. L'attaccante che salta indisturbato, colpisce di testa, prego si accomodi, gli dico. C'è proprio una cosa ridicola. In una partita che tu dovresti salvare la faccia, riscattarti dopo una prova indegna e vergognosa, quella in Norvegia che è passata la storia. Io mi domando anche Murigno negli spogliatori che cotadirà questa squadra, perché non li può neanche punire più di tanto perché non c'è neanche le alternative dove si fa veramente giocare Tripi e i Felix e i giocatori della primavera. Forse sarebbe pure un'idea buona. Oggi Murigno ha perso molto della sua credibilità, perché tu non puoi preparare così male dal punto di vista te, proprio di testa questa partita, ripeto, contro una squadra di bidoni. Non mi venite a dire che il Boto Game gioca bene, come ha detto qualcuno in telecronaca su TV8, non mi ricordo se sulla Rai, una squadretta, questo è, una squadretta che non vale una marcia, anche perché tra il campionato italiano e il campionato di Norvegia, c'è una differenza enorme, soprattutto a livello tattico. Questi sono dei caproni, sono dei caproni che nel momento in cui tu li vai a marcare, ti fanno anche male, perché fisicamente sono prestanti, sono ai tanti, ma nel campionato italiano sta gente non piglia una palla con le difese italiane, fatti bene. cioè li marchi bene, li anticipi, li fai girare a largo, li porti sempre fuori dalla linea dell'area di rigore, li cerchi di portarli sempre sull'esterno, sono dei brocchi, prenderanno qualche palla alta se gliela concedi, tutto qua, ma come si fa a non battere una squadra del genere, io veramente sono avvilito, ma soprattutto ripeto, Murigno in questa fase non ci sta capendo un cazzo, ve lo dico proprio, io Murigno te voglio bene, ti ho sostenuto fin dal tuo arrivo, ho sempre pensato di un ottimo allenatore, in questo momento non ci sta capendo un cazzo, ce la so, fate controllare qualcuno, non lo so, o sarà vero come molti mi dicevano quando arriva da Roma, guarda che Murigno non è più quello di prima, ha preso un sacco di someri, è cambiato, di qua, di là, può essere pure, può essere, gli anni passano, cambiamo tutti, io ho sostenuto, però tu ti devi rendere conto che stai facendo casino, ma stai facendo molto casino, il modulo che abbiamo non funziona, sono settimane che lo sto dicendo, porca puttana, andatevi a vedere sti cazzo di video che faccio, fatevi vedere pure a Murigno, non funziona sto modulo, perché abbiamo dei giocatori in difesa che sono delle seghe, è molto semplice, non c'è contrasto, non c'è marcatura, siamo provvisori, siamo incerti, sbagliamo i disimpegni, sbagliamo i passaggi, sbagliamo i controlli, siamo approssimativi, siamo una squadra slegata in difesa, bisogna coprire, barricare, proteggere, bisogna fare intensità e densità, accorciare, è un casino così, questa squadra deve cambiare modulo, non si può continuare con questi quattro giocatori che sono quattro finti centrocampisti, scusate, quattro finti difensori, Kasdom non è un difensore, i Bagnas è messo lì, non serve a niente, Vigna è così così, Mancini fa quello che può, ma non c'hai vicino, capito, Manolasce oppure perlomeno Smalling, c'hai vicino il Bagnas che è un giocatore giovane che spesso è molto scomposto, sia nei falli che anche nei rilanci spesso è molto approssimativo, crescerà dalla sua una grande fisicità, una grande prestanza, una grande, ma non è un giocatore che tecnicamente qualche cacciata fa sempre, insomma, ecco, questo è il discorso, bisogna proteggere questa squadra, l'ho detto tante volte, mettiamoci col 3-5-2 perché bisogna che questa squadra sia, diciamo, compatta, corta, che bisogna chiudere gli spazi quando ci difendiamo, siamo lunghissimi, vogliamo giocare con i lanci lunghi, ma siamo nel 2021, ma chi cazzo ci casca più con i lanci lunghi, a Cardor non lo mancavano neanche, l'avete visto nel primo tempo quante volte viene preso sul lancio lungo di cristante, di Bagnas, c'era la difesa, quante volte viene pescato libero Cardor, ma non ti marcano neanche più, ma dove vai, ma dove vuoi andare, ti stoppi la palla, poi ti chiudono un po', torni indietro, cioè, ma dove vai con questo gioco, a parte che oggi abbiamo sbagliato una quantità di cross, di passaggi, di una cosa inspiegabile, forse solo con questa frenesia, questo nervosismo, io vi dico questo, se giochiamo in questo modo a Venezia, perdiamo, io ve lo dico subito, guardate che il Venezia non è una squadra materasso come molti pensano, se noi giochiamo in questo modo a Venezia, perdiamo, se noi giochiamo in questo modo a Genova, con il Genova di Barazzini, che è una squadra incazzatissima, che gli va tutto storto, eccetera, hanno perso un sacco le partite, sono affamati di punti, noi perdiamo tutte e due le partite, noi se giochiamo così con il Torino all'Olimpico, perdiamo anche con il Torino, se giochiamo così all'Olimpico con l'Inter, che sono le prossime partite di campione, perdiamo anche con l'Inter, io ve lo dico prima, inventatevi qualcosa perché voi state rischiando di fare altro che vincere la Conferenzia, la Conferenzia, ma quando cazzo la vince la Conferenzia, se hai problemi col Bodo Klimt, ma quando incontri il Tottenham, ma che gli racconti, il Tottenham del neotecnico Antonio Conte, ma do cazzo andrà, ma manco la Coppa Italia vince con la squadra del G, ma in Coppa Italia esce al secondo turno, passi il primo turno con una squadra modesta, poi il secondo turno esce, questa squadra non va da nessuna parte, allora tutti mi dicono, ma gennaio è lontano, ma siamo arrivati al 4 di novembre, ci sono ancora un sacco di partite che giocheremo con un branco di bidoni, braccio strappato all'agricoltura, che noi innalziamo, ci sono 4-5 giocatori nella Roma che non possono giocare a calcio, che ne devono andare a fanculo, questo dovrebbero fare, che non mi fate fare i nomi, buonanotte.